I dati sono aggiornati a lunedì 10, a chiudere la classifica delle regioni italiane e la Sicilia con 55 punti su 100, numero molto distante dalla media nazionale che è 74. La Puglia con 87 punti ha fatto meglio di tutte ed è in testa alla classifica. Sono numeri contenuti nell'indice regionale sui vaccini elaborato settimanalmente da Utrend. Il punteggio massimo è 100 e più ci si avvicina a quel numero più efficace è stata la campagna vaccinale. L'indice di Utrend sintetizza settimanalmente con un valore compreso tra 0 e 100 lo stato della campagna di vaccinazione in Italia attraverso la media ponderata di 5 parametri. La percentuale di dosi utilizzate sul totale delle scorte ricevute, la percentuale di soggetti vaccinati in tre fasce d'età, tra 50 e 69 anni, tra 70 e 79 anni e tra gli over 80, oltre al dato dell'accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente, classifica che al momento vede la Sicilia fanalino di coda.